Ciao a tutti ragazzi, vi avviso subito che il video che vedrete è un video diversissimo da tutti gli altri probabilmente avrete già visto altri video da altri youtuber qua sulla community italiana appunto di youtube ma è un video a cui io ci tengo molto e ci tengo molto a prendere parte a questa iniziativa infatti oggi ragazzi non sono qua nei panni di Zanzo ma sono qua nei panni di Gioele e adesso vado ad esporvi quella che è questa iniziativa che è stata creata allora l'iniziativa è stata creata da Tom's Hardware in collaborazione con Mirko quindi con CiccioGamer89 e ringrazio tutti e due sia Roberto di Tom's che Mirko per questa cosa bellissima e praticamente prende il nome di Youtubers SOS Terremoto che serve per raccogliere fondi a scopo benefico da donare poi alle popolazioni colpite dal terremoto vabbè ragazzi l'abbiamo sentito tutti quello che è successo negli ultimi giorni quindi la community italiana di Youtube vuole dimostrare che se vuole è unita soprattutto per una causa come questa diciamo che con questo piccolo gesto speriamo di poter aiutare le persone che si trovano tuttora in difficoltà ragazzi per effettuare la vostra donazione vi basta andare qua sotto in descrizione o nel primo commento ve lo lascerò anche lì trovate il link al sito dove appunto è possibile effettuare la vostra donazione personale ragazzi mi raccomando effettuate la donazione solo se potete farlo non è un obbligo mi farebbe piacere se tutti quelli che mi seguono o tutti quelli che seguono comunque Youtube in generale facessero la loro donazione e mi piacerebbe anche che altri Youtuber non solo quelli che fanno parte diciamo della mia tipologia di video quindi non solo i gamers ma tutti anche tutti gli altri Youtuber portassero avanti diciamo sostenessero questa iniziativa quindi ragazzi io la mia donazione l'ho fatta poi deciderò se lasciarvi qua lo screen della donazione o comunque farvi vedere un po' come funziona il sito anche se è banalissimo quindi basta cliccare sul link cliccare sul tastone giallo per contribuire appunto con una donazione libera scegliere la tipologia di donazione e con un piccolo gesto ragazzi cerchiamo tutti insieme di fare del bene alle persone che in questo momento si trovano in una situazione più sfortunata della nostra io ringrazio anticipatamente tutti quelli che vorranno contribuire a questa iniziativa ringrazio ancora Mirko, ringrazio ancora Roberto per averci messo a conoscenza appunto di questa fantastica raccolta fondi e niente ragazzi io vi saluto ci vediamo bella